Buona e santa giornata a tutti, bentrovati, buon mercoledì 3 febbraio. Oggi è la memoria di San Biagio, vescovo e martire, invocato come il santo dei mali della gola. C'è un male che produce la lingua, che è la cattiveria, la calunnia, la menzogna, il parlare male. Raccomando sempre a tutti voi di usare il dono della parola per costruire, edificare, parlare bene e mai male, mai male, mai operare il male con la bocca, perché la bocca uccide molto più di un'arma. Invochiamo l'intercessione di San Biagio. Affediamo al Signore, alla sua misericordia, al suo aiuto e all'aiuto della Mamma Celeste questo giorno. Segniamoci con il segno della croce e preghiamo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti e vi aspetto per i nostri consueti momenti di preghiera. La coroncina alla Divina Misericordia alle 14.50, il Rosario alle 17.20 e la Messa alle 18.00. Vi mando un bacio e un abbraccio. Buona giornata.